Allora, come d'accordo, oggi facciamo un po' di esercizi, proviamo a risolvere insieme gli esercizi che abbiamo già condiviso in parte la settimana prossima, scorsa, in parte ieri, ci hanno tenuti anche un po' compagnia durante il weekend sul gruppo Telegram, va bene così, allora partiamo da questo esempio della briscola che in qualche modo è stato tentato da, spero parecchi di voi, in tanti modi diversi, ci sta tutto il fatto che si possa fare in modi diversi, quindi oggi proviamo a vedere insieme una possibile soluzione che non esclude però chiaramente tutte le altre soluzioni. Allora, come sempre, prima di scrivere il codice, proviamo ad attivare un attimo il ragionamento, ok? Il ragionamento secondo me è su due piani, il primo piano è capiamo meglio quali sono le regole del gioco, perché a volte alcuni si erano dimenticati alcune parti o magari non erano chiare nel testo, ci mancherebbe perché alcune cose magari sono andate per scontate. E la seconda è come strutturare il programma come macro blocchi e poi cerchiamo di implementare i singoli macro blocchi. Allora, la prima domanda che mi faccio è quali sono le regole che dobbiamo implementare per indicare la carta vincente? Quindi dimentichiamo un attimo le stringhe eccetera, ma ragioniamo semplicemente sul problema. Noi abbiamo due carte di due giocatori diversi, una carta 1 e una carta 2 e le regole ci danno cose diverse a seconda del seme di ciascuna di queste due carte e del suo valore. ovviamente il seme è una cosa importante perché in particolare può essere o non essere il cosiddetto briscola. E quindi io così proverei a fare quattro casi possibili in cui può darsi che la carta 1 abbia un seme di briscola oppure la carta 1 non è di briscola. è la stessa cosa per la carta 2 di briscola, sì, oppure la carta 2 no briscola. Allora, chi vince in questi quattro casi? Allora, ci sono due casi che sono chiarissimi, quella in cui una delle due carte è di briscola e l'altra no. Quindi siamo nel quadrante in alto a destra dove la carta 1 non è di briscola e la carta 2 lo è, vince la carta 2. e viceversa nel quadrante in basso a sinistra dove la carta 2 non è di briscola ma quella 1 lo è, carta 1 senza dubbio. Poi ci sono gli altri due quadranti in cui quello in alto sinistra sono entrambe di briscola, quindi hanno lo stesso seme e guarda caso è il seme più importante della partita. Come faccio a sapere chi vince? In questo caso ho due possibilità che distinguerò sulla base del valore della carta. Ok? Quindi andrò a vedere se il valore della carta, se quella di 1 è maggiore della carta 2 o se il valore della carta 2 è maggiore della carta 1. Se il valore della carta 1 è maggiore del valore della carta 2 vince la carta 1, non mi sta tutta la parola carta 1, quindi scrivo solamente 1. Se il valore della carta 2 è maggiore del valore della carta 1 vincerà la carta 2. Il caso uguale non esiste perché non è possibile avere due carte identiche. Ok? È un mazzo semplice, non ci sono carte duplicate, quindi c'è o maggiore uno o maggiore l'altro. L'uguaglianza non esiste, non è data. Guardate ogni tanto io ho il dubbio che non stia registrando, quindi vado a controllare, ma è una mia paranoia, non preoccupatevi. Ok? E questo è facile. Poi facciamo un ragionamento sulla, su quello che intendiamo con valore. Poi per quanto riguarda invece l'altro caso, a sua volta, sappiamo che entrambe le carte non sono di briscola, quindi non si applicano delle regole generali, non si applicano delle regole speciali per la briscola, ma sono di altri semi. Ma gli altri semi sono tre. A seconda che i semi delle due carte siano uguali o diversi, si applicano delle regole diverse. In particolare se i due semi sono diversi vince uno. Se i due semi sono uguali vado a vedere il valore. Ok? Quindi se ho semi diversi tra di loro oppure se ho semi uguali. Se ho semi diversi vince uno, la prima carta giocata perché la seconda ha buttato giù una carta di un semi diverso e quindi non può prendere, non può vincere, non è di briscola, l'abbiamo escluso prima. Se invece i semi sono uguali vado a vedere il valore. Quindi vado a vedere il valore, se uno è maggiore di due vince uno, se due è maggiore di uno vince due. Ok? Quindi queste sono tutte le casistiche possibili che in qualche modo dobbiamo gestire. Dopodiché che cosa riconosco? Una cosa che posso riconoscere è che questo pezzo qui sono la stessa cosa, identica. È anche vero che quando dico semi uguali e dico che entrambi sono carte del semi di briscola, ovviamente ricade nel caso semi uguali. Cioè quello che sto dicendo è che se io implemento per prima la regola che va a vedere se i semi sono uguali, questa in automatico si considera anche il caso in cui entrambi i semi, oltre che siano uguali, siano di briscola. Quindi questa, se uno la riconosce, è un'ottimizzazione del codice perché anziché quattro casi diversi vado a considerarne solamente tre perché riconosco che quello in alto a sinistra, alto non è che un caso particolare di quello in basso a destra. Se non me ne accorgo avrò dei pezzi di codice uguali, ripetuti. Non muore nessuno, ok? Purchi sia giusto. L'altra cosa da ragionare è questo confronto sul valore. Valore 1 maggiore di valore 2, valore 2 maggiore di valore 1. Cos'è il valore della carta? Allora forse vi ho ingannato io nel testo perché nel testo ho scritto quanto valgono i punti, fante, donna, re valgono 2, 3, 4 punti, il 3 vale 10 punti, l'asso vale 11 punti e le altre carte valgono 0 punti. Allora questa è un'informazione, non dico inutile ma abbastanza. Quello che io devo fare qua come confronto non vado a confrontare come molti hanno fatto i punti o meglio non solo perché in base ai punteggi io so che l'asso è meglio del 3 e il 3 è meglio del jack. Allora qualcuno di voi ha detto vabbè l'asso vale 11, il 3 vale 10, il jack vale 2 e va bene. E poi però tra il 4 e il 6 questi in base i punteggi valgono entrambi 0 punti, ma il 6 è meglio del 4, il 6 vince sul 4, è una misera vittoria che prendi due carte che valgono 0, però poi sei di mano dopo potrebbe tornarti comodo. Quindi esiste un ordine, anche un ordinamento, anche tra il 2 viene prima del 4, il 4 viene prima del 5 e così via, tra le carte che hanno 0 punti. Quindi questo confronto di valore non è il confronto dei punti, i punti vengono dopo. Il confronto di valore è semplicemente mettere in ordine le carte e vedere quale viene prima e quale viene dopo. Poi alcune di queste saranno dei punti, quando dovremo calcolare i punti ce ne preoccupiamo. Quindi questo è un punto secondo me che ho visto vi ha creato qualche difficoltà. Il fatto che ci siano delle carte che pur essendo diverse hanno lo stesso punteggio, se io forse non avessi scritto i punteggi sarebbe stato meglio, però l'ho scritto, è un dato che in questo esercizio non serviva. Serviva semplicemente sapere che l'ordine delle carte era 2, 4, 5, 6, 7, jack, donna, re, 3 e 10. Questa è l'unica informazione che ci serve, in quest'ordine qua. Poi valgono 7, 0, 2 eccetera. Quindi questo è il primo ragionamento che volevo fare insieme a voi. Così abbiamo lo schema, man mano che scriviamo codice andiamo a implementare parti di questo schema qua. Ci aiuta a ragionare, averlo ordinato, piuttosto che non scrivere istruzioni e chiederci alla fine, dopo aver scritto 27 if, ma avrò pensato a tutti i casi possibili e a quel punto si innesca il mal di testa. La seconda cosa, a questo punto passiamo sul piano più operativo, cosa deve fare il programma? Il programma deve fare una cosa molto semplice, leggere i dati, il programma deve leggere i dati e per favore leggere i dati come è stato detto, perché se c'è scritto che devo leggere i dati così, devono essere così, non 2 su una riga, F sulla riga dopo, oppure F2, oppure in qualunque altro modo di fantasia. Il formato di ingresso è specificato nel testo e devo attenermi a quel formato lì, anche se non mi piace. Così mi arrivano i dati, poi non mi piace come sono fatti, li elaboro dopo, ma li leggo così perché così mi arrivano, arrivano dall'esterno, non posso, io posso modificare ciò che voglio del mio programma, non posso modificare il mondo esterno che mi fornisce questi dati. Quindi dopo aver letto i dati, il passo successivo è quello di estrarre le informazioni utili dai dati letti. Quindi faccio un po' di, chiamiamola così, pre-elaborazione. C'ho queste stringhe, queste stringhe, magari mi fa comodo separare il valore del seme, magari mi fa comodo controllare se il valore è un valore basso o un valore alto, in qualche modo, e così via. E poi alla fine avrò la parte di logica vera e propria, determina il vincitore, la carta vincente, no? La carta vincente, che lo faccio con la mio schema a quattro caselle, no? Quello che abbiamo fatto prima. Però vedete che nello schema a quattro caselle io mi sono basato sulla conoscenza di, è di briscola o no la prima carta, quindi devo sapere come farlo questo qui, l'ho scritto a parole. Poi a un certo punto devo avere le variabili che mi permettono di chiedermi, la carta 1 è di briscola, la carta 2 è di briscola, allora questo devo scrivere sotto forma di codice, il valore 1 è maggiore al valore 2. Quindi questa fase che ho chiamato di estrarre le informazioni utili mi serve per prepararmi le variabili che mi servono poi subito dopo per verificare quale carta sia vincente. Ok? Allora se passiamo al livello di codice, quindi proviamo a fare una prima soluzione in cui abbiamo detto la prima cosa che faccio è acquisisco i dati, poi lo copio da quello che abbiamo scritto prima, estrargo le informazioni utili e poi determino carta vincente. Acquisisco i dati e quindi è facile, devo leggere quelle tre cose. Ok? Quindi seme di briscola uguale input due punti, carta 1 uguale input, carta 1, carta 2 uguale input, carta 2. ok? Poi qua mi metto, to do, controlla, la validità dei dati. Qui c'è un mare di cose che possono andare storte, l'utente ha scritto le cose sbagliate, ha usato le minuscole poste le maiuscole, ha messo delle carte che non esistono, eccetera eccetera. Ci pensiamo, non facciamoci distrarre dal ragionamento principale rispetto a tutte le cose che possono andare storte ogni volta che leggo dei dati all'utente. Non che non sia importante controllare i dati, ma nella prima versione facciamo il caso semplice in cui i dati siano corretti, che già così semplice non è. Poi andremo a fare i controlli. Estrargo le informazioni utili. Quali sono le informazioni utili? Sono quelle che mi fanno lavorare con la tabella successiva. Quindi io posso sapere facilmente se la carta 1 è di seme briscola, la carta 2 è di seme briscola e la carta 1 e la carta 2 hanno lo stesso seme, un seme diverso? Sì, basta che io mi estragga magari in due variabili comode che possono essere seme 1 e seme 2, i due rispettivi semi delle carte. E che cos'è il seme? È il secondo carattere della stringa. No? La carta era scritta come 2F, è una stringa di due caratteri, il primo carattere rappresenta il valore, il secondo rappresenta il seme. Quindi, carta 1, il secondo carattere della prima carta. L'indice 1 ovviamente rappresenta il secondo carattere, perché l'indice 0 rappresentava il primo. E la stessa cosa, il seme della carta 2 uguale carta 2 di 1, il secondo carattere della seconda carta. E quindi questi due semi estratti mi permettono, torno al disegno, di rispondere a carta 1 di seme briscola, no, sì, no, e i semi sono uguali o i semi sono diversi. Quindi mi permettono di praticamente smarcare già questo test, questo test, questo lo so fare, questo lo so fare, questo lo so fare, questo lo so fare, andando a controllare seme briscola, seme 1, seme 2 con delle semplici uguaglianze, dei controlli di uguaglianza. Ciò che non so ancora fare sono quelli invece cerchiati in rosso, cioè il confronto dei valori, che era forse la difficoltà o la mini difficoltà di questo esercizio. Cioè se io posso estrarre per farmi il valore, il valore 1, carta 1 di 0, valore 2 uguale carta 2 di 0, che sono due stringhe che rappresentano il valore della carta, il valore inteso come 3, jack, re, asso eccetera. Come faccio a scoprire quale delle due è maggiore dell'altra? Allora, immaginiamo qui ad esempio questo potrebbe essere un 4, questo potrebbe essere un re. Io non posso confrontarli di brutto così, confrontando le due variabili. Cioè non che mi esplode nulla, ma fa la cosa sbagliata. Questo confronto cosa fa? Confronta due stringhe di un carattere. Si possono confrontare due stringhe? Certo che si possono. Ma il risultato del confronto di due stringhe è il confronto, l'altra volta l'abbiamo chiamato lessicografico. Alfabetico più il codice ASCIP, il codice Unicode che stendono il concetto di ordine alfabetico. Quindi supponendo che le lettere siano tutte maiuscole, non l'abbiamo verificato ma nel testo sembrano di sì, un confronto di questo genere funziona, ma mi mette le carte in quest'ordine qua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, J, K, Q, e basta, no? Sì, sono dieci carte. Perché? Perché nell'ordine lessicografico, nel codice ASCIP, capita che i numeri vengano prima delle lettere e poi le lettere vanno in ordine alfabetico. A è la prima lettera, la J viene prima della K e la Q viene dopo entrambe. Quindi se facessi questo confronto mi darebbe un confronto di un'ipotetica partita in cui i valori delle carte crescono in quest'ordine qua. Quindi la carta più importante è la donna, il 3 è una scartina di bassa lega, ok? Quindi quello che abbiamo detto a parole, il valore della carta, sì, devo però associare un valore a un qualche cosa di confrontabile che però non è direttamente ciò che c'è scritto sulla carta stessa, ok? Quindi devo calcolarmi un valore confrontabile, non semplicemente un valore di faccia della carta. Allora, come lo posso fare? E qui siamo sempre sulle stazioni di informazioni utili, cioè ho bisogno di due dati che poi siano confrontabili. Il valore facciale della carta non è confrontabile, non mi dà nulla di utile. Allora, quello che hanno fatto alcuni di voi, che non è sbagliato, è passare ai punti. Quindi qualcosa del tipo, se carta 1 uguale asso, allora punti 1 uguale un 3, allora punti 1 uguale 10. Altrimenti, carta 1 uguale un 3, sto andando in discesa, ma potrei andare in salita, non cambia niente. Punti 1 uguale 4. E questo non è sbagliato, no? Oh, se posso usare un aggettivo è noioso. Allora, re, donna, donna vale 3, il fante, fante vale 2. E qui viene il bello. Ho usato i punteggi che c'erano nel testo, facendomi tra virgolette ingannare il testo. Quindi l'errore, l'unico errore che potrei fare a questo punto, scrivere questo. Punti 1 uguale 0. Che non è sbagliato se come punti intendo il punteggio che mi dà quella carta quando la prendo. È sbagliato se come punti intendo un valore numerico che poi vorrò confrontare per capire quale delle due carte vince sull'altra. non quanti punti dà. Chi vince sull'altra, chi è meglio dell'altra. Allora qua mi posso, volendo, questo qua no, 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 non va bene assolutamente, no? È chiaro a tutti perché non va bene mettere 0 qua. Interrompetemi, eh. Mi servono dei valori diversi tra di loro e crescenti, le barra decrescenti, qui sto scendendo, nel modo giusto. E quindi anche se il 7 è sfigato dovrò dire se tu sei un 7, carta 1 uguale 7, allora punti 1 uguale un numero minore di 2. Adesso 1, 1,8, quello che volete, chi se frega, purché sia minore di 2. Perché 7 deve perdere rispetto al Jack. Che ne so, 1,8, 9. Poi, e vado avanti con la parte noiosa, se la carta non fosse un 7 ma fosse un 6, ci metto un valore a caso che sia più piccolo. L'importante è che quella del 6 sia più piccola di quella del 7 e sia più grande di quella del 5. Ok? Questi sono valori totalmente arbitrari. A me non interessa il valore, mi interessa semplicemente l'ordinamento di questi valori. E visto che gli altri sono arrivati fino al 2, o se voglio tenermi i numeri interi faccio 1, 0, meno 1, meno 2, ma è brutto. Oppure faccio uno dei numeri frazionali che è brutto uguale. E vabbè. Quindi poi ci aggiungo ancora il 4 e il 2. Attenzione che non ci devo mettere il 3. Il 3 l'ho già preso da sopra. 4, 2, 1,6, 1,5. Così, tanto per. Questa bella cosa mi dà dei valori che a questo punto posso replicare sulla carta 2. Quindi prendo tutto sto blocco, copio e incolla e tutti i parta 1 diventa carta 2 e tutti i punto 1 diventa punto 2. Se ne dimentichiamo 1 il programma avrà un errore che ci metteremo due giorni a trovare. Comunque, vabbè, si può fare. Quindi punti 1, punti 2, immaginate un blocco uguale sulla carta 2, mi danno due valori numerici il cui confronto numerico, punti 1 minore di punti 2, mi dà esattamente questo che cercavamo prima, il cerchio rosso. Ok? Questo è ciò che ci serve. Ci serve un valore numerico e più comodo ordinato in ordine crescente sulla base del valore della carta. Il valore della carta, non il punteggio della carta. Ok? C'è un modo più semplice di farlo? Valore 1, bravo. Ho cannato in pieno. Questo non è la carta 1, ma è valore 1. Scusate, solamente il valore della carta 1, perché carta 1 era già la stringa di due caratteri. Grazie. Qual è l'errore che ho fatto? Non è stato di scrivere carta al posto di valore. Sì, questo è l'errore materiale. L'errore vero che ho fatto è non provare il programma man mano che lo scrivevo. Per andare avanti ho detto, ok, è talmente semplice, talmente ovvio, lo stiamo vedendo insieme. O siamo in 180, uno se ne è accorto. O magari qualcun altro se ne è accorto, aspettavo vedere se mi sarei accorto anch'io. Quindi, purtroppo a volte per fare più in fretta uno non dice ok, ho scritto tre istruzioni, le provo, poi ne scrivo le altre tre, provo le altre tre e così via. Ok. Questa lezione dell'1,9,1,8,1,7 ci fa anche dire che in realtà di questi valori assoluti non ce ne frega niente. Allora, tanto vale, scusatemi, dire che mettiamo dei valori arbitrari che nulla hanno a che vedere col punteggio, ma tanto già prima non avevano nulla a che vedere col punteggio, no? Purché siano crescenti. Ho visto il gioco che ho fatto. Ho sostituito una serie di numeri arbitrari, alcuni di quali c'entrano con i punteggi, ma poi ci siamo accorti che in realtà non ci servivano. Con un'altra serie di numeri arbitrari, ma un pochino più regolare, un pochino più pulita. Ho cambiato niente, ovviamente. Perché ho mantenuto ovviamente l'ordine giusto. Ma questo mi dà un'idea per semplificare tutto questo blocco di codice. Cioè, io ho dei caratteri. A3, K2, U e 7. E a questi caratteri devo associare un numero sulla base di un ordine con cui compaiono questi caratteri. Giusto? Ma allora, se io questi caratteri li mettessi tutti in fila in una stringa in ordine di valore, ci manca il 3, quello è l'ordine che io voglio avere. Io so che ho uno di questi caratteri e voglio sapere se viene prima o se viene dopo. E c'è un metodo che si chiama find che fa proprio questo. Quindi io potrei scrivere che punti 1 uguale valori punto find valore 1. Vediamolo interattivamente. assegniamo questa variabile qua, valore uguale a queste carte qui. Io posso provare a fare, ricordiamolo, cosa fa la funzione find? Ritorna l'indice più basso all'interno di S nel quale sia stata trovata la sottostringa passata come argomento della funzione. Quindi se io faccio valori punto find di 5 mi dirà 2. Cioè mi dice, ah guarda il carattere 5 c'è nella stringa che hai chiamato valori, è in terza posizione. Se io vado a prendere un jack mi dice che è in sesta posizione, l'indice è 5. Quindi il jack vale più del 5 perché il suo indice è maggiore dell'altro. Quindi questi punti, altro non sono, uno dei modi possibili di farlo, non è l'unico, forse è più breve però, altro non sono che la posizione del valore della carta che ho all'interno di una stringa, di un elenco, noi per ora sappiamo usare stringhe per creare degli elenchi di caratteri, la posizione di questa carta all'interno di questa lista. Quindi, adesso qua avevo usato 1, 2, 3, 4 perché mi ero dimenticato di contare come gli informatici partendo da 0, find invece conta partendo da 0, quindi questo punti 1 calcolato qua non è esattamente identico a quello sopra, è 1 in meno perché il find, ma chi se frega di nuovo, l'importante è che sia crescente nello stesso modo. Quindi, tutto questo blocco di codice che noi avremmo dovuto replicare anche per il valore 2, calcolare un punti 2, si può, questo lavoro di ricerca, ricerca qual è il primo simbolo che trovi da questo insieme di simboli tenendo presente dell'ordine, che è l'ordine in cui cercarli è questo, è già il metodo find, usato in modo un po' creativo. andava benissimo la catena di if, un po' noioso, ma vabbè, punti 2 uguale valori, punto find di valore 2. Questo è sufficiente. Lo sforzo che dobbiamo fare, quando ci riusciamo, serve l'esperienza ovviamente per riuscire a vedere certe cose, è cercare di pensare in termini di operazioni più astratte e non sempre del singolo dato che la prendo, faccio, eccetera. La potenza delle librerie di Python che ci fornisce molte funzioni che magari possiamo sfruttarle se riusciamo a pensare all'operazione che sto facendo. Sto cercando qual è il simbolo. Dimmi. Il numero intero, l'abbiamo visto qua, è un intero. Find restituisce un valore intero che corrisponde all'indice all'interno dell'altro. Quindi posso confrontare direttamente. Ho visto punti 1 è un intero, punti 2 è un intero. Dove, attenzione, per come l'ho costruito più è grande punti e più è grande la carta, più è meglio la carta, scusate se l'ho detto in italiano non troppo corretto. Se invece ho visto alcuni che invece sono partiti e hanno fatto questa stringa, al contrario, asse, tre, re, donna, vabbè, allora in questo caso un valore di find più piccolo vuol dire che la carta è migliore. Basta solo essere coerenti con ciò che facciamo. A questo punto determinare la carta vincente, prendiamo questa tabella qua, abbiamo tutto. 1 maggiore di 2 significa dire punti 1 maggiore di punti 2 e in confronto ai semi abbiamo tre variabili, semi 1, semi 2, semi briscola. Dicevamo che i due blocchi verdi sono uguali, quindi mi conviene probabilmente partire da quello in basso destra e fatto quello automaticamente l'altro rimane fatto. Quindi la prima condizione che potrei testare è se i semi sono uguali. Se i semi sono uguali di sicuro non sono nelle due caselle in alto destra e in basso sinistra, perché là c'è scritto che uno è briscola e l'altro no, l'altro no e l'altro briscola, quindi qua sicuramente in queste due i semi sono diversi. I semi uguali vuol dire o qui o qui. Allora, la prima test che posso fare per brevità è se semi uguali, cioè semi 1 uguale semi 2, vado a vedere il valore. Se punti 1 è maggiore di punti 2, vince la carta 1. Altrimenti vince la carta 2. Questo test messo all'inizio, semi 1 uguale semi 2, mi va a prendere tutti i casi in cui ho due carte dello stesso seme, compreso il caso in cui il seme sia un semi di briscola, è uguale. La regola è la stessa, se i semi sono uguali si applica questa. Altrimenti, quindi in questo caso diciamo così, semi uguali, briscola o no è uguale. È lo stesso. Altrimenti, altrimenti sono nel caso in cui i semi sono diversi. Visto che ho messo un else, automaticamente ci entro se è vero l'opposto della condizione precedente. Quindi alcuni di voi avrebbero fatto qualcosa del tipo if semi 1 diverso da semi 2. Se sono uguali e faccio una cosa, se sono diversi faccio un'altra cosa. Che non è sbagliato. Però se la seconda condizione è l'esatto contrario della prima, è meglio non scriverla. È meglio far sì che l'else dica ok, questo è l'esatto contrario. Uno vi garantisce che sia esatto contrario, perché ci pensa al linguaggio e non ci dovete pensare voi. E due, scrivete una condizione in un punto solo, per cui se un domani doveste modificarla, correggerla, non avete, non dovete correggerla anche in un altro posto. Anche qua ho messo un else per non mettere punti 2 maggiore di punti 1. In realtà qualcuno potrebbe dire, ma sì però questo else, cioè il contrario di maggiore e minore uguale. Sì ma l'uguale non capita. Non sta nei dati, non è possibile che siano i dati di input. Lo dico io, che non è possibile che siano i dati di input. In realtà dovrà dirlo il programma quando controllerà effettivamente i dati di input. È un'assunzione che facciamo. Questo programma funziona se le carte sono diverse tra i vari controlli che devono essere fatti. Ok. Se i semi sono diversi cosa devo fare? Ma se i semi sono diversi non me ne frega più niente del valore. Se i semi sono diversi può rarsi che uno dei due si apriscola, vince quella, nessuna si apriscola, vince l'uno. Posso scriverlo nell'ordine che voglio. Quindi se seme 1 uguale al semi di briscola, vince uno. E uno potrebbe dirmi, no aspetta, ma con pezzo. Se seme 1 è semi di briscola e seme 2 è diverso la briscola, vince 1. Non ho bisogno di scriverlo. Perché se seme 2 fosse anch'esso briscola, sarei caduto qui. Non sarei mai arrivato qui. Essere arrivato all'else significa che posso dare per scontata, per vera, il contrario di questa condizione qua. Quindi i due semi sono per forza diversi. Quindi se uno è briscola, l'altro di sicuro è diverso da briscola. Dimmi. Quindi vuoi mettere prima il due tu? Sì, ho capito. Sì? Certo. Ci arrivo. Allora magari lo vediamo in una seconda iterazione. Poi, altrimenti complementare seme 2 fosse briscola, allora vince la carta 2. Scusate la pigrizia e faccio copia ancora da là. Altrimenti, allora questo S cosa mi prende? Mi prende il caso in cui i semi sono diversi, scritto qua. Il primo non è briscola, il secondo non è briscola. Quindi vince la prima carta. Ok? Perché il secondo ha giocato un seme a muzzo, sbagliato. Ricordiamoci, sono sotto un else, do per scontato che questa condizione sia falsa. Se sono sotto un if, quindi questo blocco qua, può dare per scontato che quella condizione sopra sia vera. E non ho bisogno di ricontrollarla ogni volta. La vostra compagna ci ha dato un suggerimento in più. Diceva, ma guarda che il primo caso vince la 1 perché è briscola e il terzo caso vince la 1 perché i semi sono spaiati, sono messi insieme, sono il complemento del secondo caso. Abbiamo if e if e if, quindi vuol dire che sono tre casi mutuamente esclusivi ma complessivamente esaustivi. E quindi lei ha detto, ma se io metto per prima questa condizione, le altre due me le trovo gratis insieme. Giusto? Quindi si poteva anche scrivere, lo scrivo sotto, controllo, prima il semi 2, allora vince la 2, altrimenti vince la 1. Io se faccio così però mi viene tanta voglia di metterci un commento per spiegare questo else perché se no sembra veramente che dimentichiamo un caso. Ok? L'abbiamo fatto, l'abbiamo ottimizzato, è giusto, però sono sicuro che tra una settimana prendi di mano questo e dici no caspita ho dimenticato un caso. No, non hai dimenticato un caso, è già compreso, quindi vuol dire che sono semi diversi. La prima, briscola o no? Fa uguale, vince comunque. O come ha scritto alcuno di voi, ha fatto print, vince sempre. Come sempre? Se ho messo una carta tu non mi puoi dire vince sempre, quella carta dipende da cosa gioca l'altro, no? Vince sempre nel nostro ragionamento, la prima carta vince sempre se la seconda è diversa, ma poi quando faccio la stampa vince quella carta. Dobbiamo distinguere il singolo alla esecuzione dal ragionamento generale. Questo l'ho fatto con degli if annidati, ma si sarebbe anche potuto fare con delle condizioni più complesse. Per esempio io avrei potuto scrivere, e lo proviamo a scrivere sotto, if seme 1 uguale seme 2 and punti 1 maggiore di punti 2. E allora avrei avuto il primo caso. E così via sarebbe andato avanti, facciamo attenzione che però, qui in questo caso abbiamo detto, in questo caso vinceva la 1. Però in questo caso nel if avrei dovuto rimettere di nuovo tutta la condizione, perché avessi messo un semplice else, ma avrei avuto tutti gli altri casi. Invece devo andare a distinguere, in questo caso devo mettere un minore, per andare a dire ok, siamo sempre nel caso in cui seme uguale, ma stavolta è segno diverso, il valore è diverso. Quindi l'avrei anche potuto fare creando delle condizioni logiche più complicate che mettevano insieme i vari confronti che dovevano fare. È assolutamente la stessa cosa, dipende come nella vostra mente ve lo vedete meglio. Allora, per essere sicuri, vediamo un attimo di non aver fatto cretinate, fatemi commentare questa parte qua in fondo, commentare l'alternativa furba e il resto direi che rimane buono. Facciamo un run e diciamo che il semi di briscola e cuori, metto un 2 di picche e un 3 di picche, vince il 3 di picche. Se io invece a briscola cuori metto un 3 di picche e un 2 di cuori, vincerà il 2 di cuori, dovremmo provare tutti i vari casi. Dimmi. Ah sì, mettiamo delle lettere, no delle, scusami, non maiuscole, e beh in questo caso non le riconosce. Perché se io facessi il semi di briscola C minuscolo e la carta 1 Jack di picche, così, C, il re di cuori, mi dà una cosa a caso. In questo caso perché C era uguale a C, perché era uguale a C, però noi abbiamo sviluppato tutto nell'ipotesi che le lettere fossero esattamente queste. E questo uguale funziona? E questo qui, questo find che non funziona? No, però lavoriamo nel pulito, ok? Non è che diciamo che se io nel motorino ci metto anche l'olio, lui funziona lo stesso, sì, poi però fa fumo e dopo un po' fondo, no? È vero che funziona, però fa schifo. Quindi facciamo le cose pulite. Le cose pulite sono andare a sistemare i dati d'ingresso. Quindi se io voglio che questo sia tutto in maiuscolo, tanto vale, dico, non appena lo leggo il dato, prima di salvarmelo me lo metto in maiuscolo. Finito. Upper è un metodo che data una stringa, restituisce la stessa stringa con le lettere messe in maiuscolo. Quindi io ho una stringa che è ciò che mi esce da input, questa stringa la faccio maiuscola col metodo upper e questa stringa fatta maiuscola la memorizzo in semibiscola, in carta 1, in carta 2. Boh, il problema è risolto, il problema è risolto. Quello di maiuscolo l'ho risolto. Quindi prima di andare avanti a elaborare dei dati, assicuriamoci che i dati siano quelli che ci servono. voglio solo accennare un errore che ho visto tra quelle delle vostre soluzioni, che a volte dato sempre da questo problema di trovare per le carte piccole spesso, fate sempre attenzione che quando io faccio un confronto i due dati da confrontare devono essere dello stesso tipo, due stringhe e vanno confrontati in ordine alfabetico, lessicografico e qui non era il caso, vabbè, oppure due numeri, reali o interi non importa. Se cerco di confrontare una stringa con un numero mi dà errori di tipo, di tipi incompatibili. Ma perché mai avrei voluto confrontare una stringa con un numero? Perché alcuni, in alcune soluzioni, questo pezzo mancava. E allora cosa succedeva? che le lettere, le figure, gli asso, il 3 erano sostituiti da un numero, 10, che alla fine era il punteggio, 11, 10, 4, 3, 2. Il restante rimaneva come stringa, perché il primo carattere, il valore, era 3 tra stringa e quindi magari nel provarlo non ve ne siete accorti perché avete sempre provato o con carte piccole, oppure con figure, carte grandi, il problema è che saltava fuori quando avevi una carta grande e una carta piccola insieme e il programma dava errore. Quindi bisogna sempre fare attenzione di provare i vari casi possibili. L'altra cosa che ho notato nelle soluzioni è che qui ho chiamato valore, il valore stampato sulla carta e punti il numerino sulla base del quale faccio il confronto. Ho visto molti scrivere anziché il valore uguale a, punti uguali a 10, avrebbero scritto il valore uguale a, valore uguale a 10. Cioè chiamare valore anche questo qua che io ho chiamato punti. Vabbè è come dire, io capisco il ragionamento, ho una stringa fatta strana, la sostituisco al posto di quella stringa e sostituisco un numero e lo chiamo nel stesso modo, butto via la stringa e la metto al posto di un numero, è come se qua avessi scritto valore 1 uguale valori punto find valore 1, che è lecitissimo, Python non fa una piega, se tu avevi valore 1 un attimo prima era una stringa, cioè il primo carattere di una stringa da 2 e un attimo dopo un intero, cioè il risultato di un find o di una serie di if, non c'è problema. Il problema nasce nel fatto che quando leggo il programma, a seconda della riga in cui sono, sopra o sotto, mentalmente quella variabile significa una cosa o ne significa una diversa. Allora visto che le variabili non le paghiamo, come il caffè delle macchinette, usiamone una diversa. Se contiene un dato che ha un significato diverso, diamogli un nome diverso. Per noi, a maggior ragione in questo caso in cui in alcun if questa variabile non veniva cambiata e quindi teneva il valore vecchio che era stringa anziché essere rimpiazzata da un intero e quindi creava problemi, non lì ma sotto quando faceva i confronti. quindi Python ci permette di cambiare il tipo di una variabile? Sì. Ci conviene usare questa caratteristica del linguaggio? No. È meglio una variabile in più o uno spazio in più? O è un nome un pochino più lungo? Ok. Manca ancora questo discorso dei controlli, che controlli posso fare? Beh potrei controllare cosa c'è che può non andare bene. Allora la semi di briscola deve essere un carattere solo e deve essere esattamente uno dei quattro semi. Quindi devo controllare che seme briscola deve essere una stringa di lunghezza 1 e deve essere una di quei quattro semi. Come faccio a controllare se è un carattere all'interno di una stringa? O uso un find oppure più semplicemente uso in che mi dà già la versione booleana vero falso? In che cosa? Cuori quadri fuori picche. Adesso ho scritto questa if. Questa if cosa mi dice? Mi dice se tutto è ok, se tutto va bene. Quindi vuol dire che tutto il resto del programma deve andare avanti solo se questa if è vera. Sta roba qua dovrai prendere tutto il programma e rientrarlo sotto questa if. e poi mettere in fondo un else il seme è sbagliato. Dovendo aggiungere altre condizioni immaginate che una serie di if ciascuno delle quali mi rientra il programma di uno scatto. Il programma principale è scomodo che sia rientrato dei sette scatti. Allora spesso quando si fa il controllo degli errori si ragiona al contrario. Anziché chiedermi cosa deve essere mi chiedo cosa può andare storto. Questa è la condizione affinché il programma possa funzionare? Se non è vera questa condizione allora il programma può stampare un messaggio di errore e uscire. no, 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 adesso ve lo dico. Ok? Quindi io potrei fare if condizione giusta due punti tutto il programma e poi però magari non è l'unica condizione. Allora un'altra condizione. Allora il programma si rientra ancora e così via. Va benissimo. L'unica cosa scomoda è che più condizioni metto più il programma si rientra. E diventa poi scomodo anche andarlo a leggerla. Poi impareremo a fare funzioni e quindi potremo spezzare queste cose. Oppure dico, e poi qua dovrò mettere else errore, else errore. Perché se non si verifica la prima condizione, se non è vera, stampo l'errore qua sotto. Se è vera la prima e mi ha falsa la seconda, stampo quest'altro errore è messo qui. Ok? Non mi basta un else solo. Faccio condizioni diverse e ciascuna avrà il suo messaggio d'errore con la sua motivazione. Dimmi. Sì. S'arrivo. Ok? Qui ho, questo è se scriviamo le condizioni al positivo. Ok? Con link eccetera. La stessa cosa la posso fare al contrario scrivendo if not condizione bella, allora stampo l'errore, if not altra condizione, allora stampo l'altro errore. E poi metto tutto il programma. Con in più l'accortezza di dire dopo che ho stampato il messaggio d'errore faccio in modo che il programma si interrompa, chiamando la funzione exit che fa interrompere il programma. Quindi io, noi siamo abituati a un programma che inizia con la prima riga e finisce con l'ultima riga, ma se in mezzo incontra la funzione exit si interrompe, si blocca di brutto. E quindi non arriverà mai, e arriverà solo, immaginate un po' di avere una serie di ghigliottine, ogni volta che incontri le ghigliottine controllo una condizione. Se quella condizione è vera ti lascia andare avanti, altrimenti, dun, ti taglia e tu non vai più avanti. Se arrivo qua sotto vuol dire che ho superato indenne tutte le ghigliottine, tutte le trappole che ho trovato sul percorso. Dimmi. Allora, chiaro che la cosa più educata quando una persona inserisce un dato sbagliato non è tagliarlo in due con la ghigliottina, come dici tu. La cosa più educata sarebbe dire senti, hai inserito un seme sbagliato, per favore riprova inserirci lo giusto. Lo sapremo fare solamente alla prossima lezione quando impareremo i cicli per poter ripetere la lettura. Per ora che non sappiamo ancora ripetere una cosa, dice se è giusta va bene la prima, se non è giusta arrivederci grazie. Sicuramente lo faremo. Allora, questo patto di programmazione, in questo schema, verifico le condizioni, se le condizioni non sono buone non vado avanti. E il non vado avanti vuol dire esco dal programma oppure insisto a chiedertelo e andrò avanti solamente quando i dati saranno puliti. Quindi tutto il resto del programma lavora con i dati puliti. Lo posso anche fare qui. Allora, quando ho scritto questo, vi piaceva questa condizione, che è la condizione per cui il seme è una stringa corretta. Qualcuno si è agitato quando ho detto scriviamo la condizione inversa, in cui il seme non sia giusto. Allora, la cosa più semplice da fare è prendere una condizione che mi dice se solo se capita questo, il seme è giusto e la neghiamo. Not aperta tonda, chiusa tonda. Quella condizione lì, ma è il suo contrario. Esattamente quella, ma è il suo contrario. Un errore sarebbe quello di scrivere seme, if not, then seme briscola uguale 1, and not seme briscola in quella roba lì. Questa seconda cosa è diversa dalla precedente e da sbagliata. Questa cosa richiede, c'è un end qui in mezzo, che per dare errore, immaginiamo che l'abbiamo scritta così, per dare errore devono essere vere entrambe queste condizioni, qui c'è end, che la lunghezza del seme di briscola sia diversa da 1, non sia uguale a 1 e contemporaneamente il seme di briscola non sia uno di questi. Quindi se io come seme di briscola mettessi z, lui è perfettamente contento, perché è vero che, non è vero che, quindi questa parte di condizione è vera, fa rabbia, dice c'è un problema, ma questa parte di condizione dice no, non ci vedo problemi, è lunga 1. Questo not uguale vuol dire diverso, no? La lunghezza è diversa da 1? No. E quindi si arrabbia? No che non si arrabbia, perché c'è una condizione che dice va bene, l'altra condizione che dice c'è un problema, ma in mezzo c'è un end che mi dà vero, mi segnala il problema solo se entrambe le metà mi dessero il problema. Allora, per rendere equivalente queste due cose dovrei scrivere qua or, non in corsivo, or. Perché un conto è dire se tutte e due le cose vanno bene, il suo contrario è dire se almeno una delle due cose va bene. Quindi il contrario di un end è or, quando devo ragionare in senso inverso. Questo è il famoso teorema di De Morgan, se devo negare un end, una congiunzione di verità, posso negare le singole clausole ma mettendole in or, disgiungendole. Viceversa, se devo negare un or, il risultato sarà un end negato. Tra l'altro, se vogliamo andare su questa, not uguale a 1 è un modo da malati di mente di dire diverso da 1. Così come not semi-brisco la in, si può usare tranquillamente not in, è più facile da leggere. Ma qui ho fatto solo delle modifiche cretine, no? Qui dice, ho un errore se il seme non è lungo 1, oppure se, sottinteso, dito sottovoce, pur essendo lungo 1, non è uno di questi 4. Questa e quella di sopra sono equivalenti. Vanno a rilevare una condizione anomala nel programma. e poi posso fare la stessa cosa con le carte, no? Quindi posso dire se… come deve essere la carta? Allora deve essere… vabbè, allora a questo punto mi conviene prima fare questo pezzo qua e poi andare a vedere se il seme 1 e il seme 2 sono giusti, se il valore 1 e il valore 2 sono giusti. Per poterlo fare voglio essere sicuro che la lunghezza delle carte, che le carte siano entrambi di due caratteri, quindi posso dire se l'end di carta 1 è diverso da 2, oppure la lunghezza della carta 2 è diversa da 2, allora posso dire print formato carta errato, e farti una pernacchia. Quindi se parto col programma dico seme di briscola… cosa ho messo… …ah scusami, stavo leggendo la riga sopra e non capivo quello ci fosse sbagliato, grazie. Quindi se mi briscola metto E, poi metto due carte, mi dice che seme è errato e si interrompe, non va neppure a controllare le carte perché si è fermato prima. Quindi sto mettendo tutta questa serie di tagliole davanti. A questo punto, se so che le carte sono di due caratteri, posso andare a estrarre il primo e il secondo carattere. Prima di sapere che ho due caratteri, non posso andare a prendere il primo e il secondo. Perché se per caso come carta avessi un carattere solo, provo a prendere il secondo e mi da errore. E l'utente non deve mai vedere gli errori di Python, deve sempre vedere i messaggi che gli scrivo io. Quindi so che sono di due caratteri, vado avanti, li separo. E a questo punto posso andare a verificare che la stessa cosa sulla carta 1, quindi non seme briscola, su seme 1 faccio il controllo di prima, che sia lungo 1, scusatemi, non serve. L'ho estratto io un carattere, quindi per forza ce n'è uno solo. Seme, carta 1, errato. Oppure seme, carte, errato. Quindi posso mettere se il seme della carta 1 oppure il seme della carta 2 non sono giusti. Ecco, a questo punto normalmente a me parte un prurito alla schiena perché ho scritto tre volte la stessa stringa. Tra l'altro non di facile lettura, quindi la probabilità che io se la riscrivo un'altra volta magari sbaglio qualche lettera, l'inverto, cosa, è alta. Allora, visto che questa deve essere la stessa stringa, mi faccio un favore e all'inizio definisco delle costanti semi, uguale, cuori, quadri, fiori, picche, basta, non ci penso più. Semi, va a finire qua, va a finire qua, va a finire qua. Sono sicuro che sia uguale così. Lo definisco una volta sola e lo uso più volte. È sempre la stessa stringa, eh? Solo che per comodità mia ho messo in una variabile che ha un nome un pochino più umano di... Poi cosa devo ancora controllare? Che i valori siano corretti. Ma io ho già, guarda caso, una stringa messa sotto che mi dice quali sono i valori leciti. Allora, basta che io prenda questa cosa qua, la teletrasporti sopra e ho un controllo analogo. controllo del seme, ma anche il controllo del valore, se il valore 1 non è nei valori permessi, o il valore 2 non è nei valori, allora il valore delle carte è errato. Ci rendiamo conto e non è un caso che abbiamo quasi scritto più righe di codice per controllare i dati che non per fare il programma vero proprio. È normale, è così. Il controllo dei dati d'ingresso è una rogna. Per fortuna se abbiamo l'algoritmo giusto, poi questo lo aggiungiamo al fondo quando siamo stanchi, quando non abbiamo più la concentrazione per pensare sull'algoritmo. Quindi tutti questi controlli qua, alcuni di voi si appassionano di più, altri meno. A fare proprio il paranoico, va bene. Il consiglio che vi do, non fatelo mai come prima cosa. Perché uno potrebbe mettere, quando io ho scritto to do controllo la valità di dati, adesso posso togliere il to do, anzi scusate, tolgo solo il to do. Perché a questo punto controllo la valità di dati, è una cosa che sto facendo. Se io lo faccio all'inizio ci posso spendere mezz'ora andare a controllare tutti i dati e dopodiché le mie energie mentali, la mia attenzione quando è ora di arrivare alla parte complicata del programma, l'ho bruciata. Ok? Quindi partiamo dalla versione semplice e aggiungiamo l'eccezione, aggiungiamo i casi particolari, aggiungiamo gli errori solo quando siamo sicuri che la versione semplice funziona correttamente. Mio consiglio. In sede d'esame, se io avessi un programma che legge i dati, poi per 50 istruzioni fa tutti i controlli del mondo e alla fine però l'algoritmo, il succo non c'è, rispetto ad un altro programma che magari non controna nessun dato, ma poi l'algoritmo, l'elaborazione dei dati c'è ed è giusta, capite anche voi come li devo valutare, no? L'uno rispetto all'altro. Ok? D'accordo domande su questo? Dimmi. Forte perché sei lontano. Ah, sì, l'abbiamo anche detto. Devo anche controllare il fatto che le carte siano diverse. Quindi, if carta 1 è uguale alla carta 2, di nuovo, le carte devono essere diverse. Certo. Quello che vi dicevo, quando metto a fare l'avaliazione dei dati, controllo dei dati, posso andare avanti a piacere, no? O a dispiacere. Ok. Diamo un'occhiata agli esercizi che vi ho proposto che sono più facili. No? Abbiamo ancora qualche minuto. Chiaramente non li faremo con questo livello di approfondimento, ma magari guardiamoli. dov'è? Il preview. Come si fa a farlo vedere tutto? Ok. Allora, questi cosa sono? L'equazione di secondo grado che tutti conoscete, questo è un esercizio più semplice che ragiona sulle if. L'unica cosa è che dobbiamo metterci lì e ragionare su tutti i casi possibili che possono capitare di un'equazione di secondo grado. E i casi possibili non sono tre, delta maggiore, minore o uguale a zero. Sono molti di più. Perché ad esempio può capitare che quando ho questi tre numeri a sia uguale a zero. Allora, se a è uguale a zero sto risolvendo in realtà un'equazione di primo grado, non di secondo grado. Quindi in questo caso, visto che voglio le soluzioni in tutti i casi, se a è uguale a zero avrò un pezzo di programma che mi ruove un'equazione di primo grado. Che è bx più c uguale a zero. Dove anche lì il risultato è meno b su c. No, aspetta, non è meno b su c. Se b è zero, e quindi ho vari casi anche lì, avrò tre casi. C'ho la soluzione, non ce l'ho perché è indeterminata, non ce l'ho perché è impossibile. Se invece a è diverso da zero, calcolo il discriminante, vado a vedere se è positivo o negativo, nullo. E vabbè, poi applicherò la formuletta. E quindi mi dirà, c'è una soluzione, non hai nessuna soluzione reale, hai due soluzioni reali distinte, hai una soluzione reale coincidente. L'altra attenzione che bisogna fare in questo esercizio è che io ho detto a parole più volte ma se a è uguale a zero, ma se b è uguale a zero, ma se il delta è uguale a zero. Ma abbiamo appena detto la volta scorsa che la parola uguale con i numeri reali non bisogna mai dirla. Sempre is close. Quando calcolo il discriminante farò if delta è uguale a uguale a zero, quello probabilmente non sarà mai zero anche se lo dovrebbe essere, per l'approssimazione di calcolo. Quindi questo era un esercizio che ci aiutava uno a pensare a tutti i casi possibili e di nuovo facciamolo prima su carta poi dopo è facile scrivere il codice. Quest'altro esercizio in realtà non è per nulla sulle cioè c'è un condizionale semplice, lavora sulle stringhe quindi separa le stringhe, aggiungi, le metti insieme. Questo esercizio è un esercizio solamente noioso in cui devo andare a prendere una stringa spezzo di varie parti e di alcune parti devo fare i controlli. Alcuni controlli sono semplici devono essere delle lettere altri controlli sono più rognosi perché dice che devono essere due cifre numeriche ma il cui valore intero è compreso in un certo range. E l'ultimo richiede anche un po' di inventarsi delle regole perché non è poi così ben definito. Quindi sono tutti esercizi in cui alla fine ci sono un paio di if da piazzare o forse qualcuno in più alcuni ragionano sui numeri quest'ultimo sembra, forse è più semplice dal punto di vista del codice però è quello meno specificato. perché ti da degli esempi, ad esempio non ti da la regola esatta che dice quando ti hai messo un numero che calcolo devi fare. Dobbiamo ragionarci partendo dal problema che è descritto. Quest'altro di codice fiscale ha dentro delle piccole trappole tipo dei numeri che iniziano con zero oppure no, ma questo ve lo lascio giocare. Ok? Quindi dimmi. Quello del codice fiscale? No, va letto... No, quelle questioni di secondo grado sono A, B e C ma qui non l'ho scritto giustamente. Sono tre... No, devi leggere i valori di tre coefficienti A, B e C. Quindi, io direi se riuscite a guardarli, se non siete ancora riusciti a guardarli mercoledì, velocemente, ti dedichiamo un attimo a mostrare soluzioni e poi andiamo avanti iniziando a parlare di cicli. Ok? Buona serata. Grazie.